Forlener 2011, seconda edizione del premio innovazione, siamo qui con il signor Bazzoli Enzo della ditta Icar che presenta il suo caricatore forestale presentato per questa edizione del concorso. Sì, è un caricatore, prima cosa si chiama caricatore perché tanti magari confondono con un escavatore, invece questo è classificato come caricatore, perché abbiamo fatto diverse modifiche, diciamo che la base è nata da un escavatore e di conseguenza abbiamo portato un caricatore con queste modifiche apportate. Abbiamo un motore potente, un impianto idraulico molto potente di 160 litri, cabina sollevabile per maggior visibilità, braccio più lungo, braccio telescopico, diciamo che il caricatore è ottimo, non è pesantissimo, siamo sugli 8 tonnellate come peso della macchina, di conseguenza non ammazza l'ambiente, diciamo che secondo me è un jolly nel caricatore. Diciamo, altra peculiarità della macchina è che ci può essere allestito varie tipologie di attrezzature. Sì, si può montare qualsiasi ben, anche ben che fanno un'apripista, una ben da pulitura per caricare, come vede qui che abbiamo uno spaccatronchi, un processore non di grandissima taglia, però già ho un buon processore che arriva fino a 40-45 di diametro e anche pinza con la motosega, quindi diciamo una macchina polivalente, diciamo per un'azienda medio-grande, quindi può essere visto che mi ha detto ci sono varie versioni di questa macchina. Abbiamo la stessa macchina ingommata, praticamente è la stessa macchina, quindi sia una macchina da bosco che comunque da piazzale, anche quella abbiamo più che altro, ha tutte le caratteristiche di questa macchina, però abbiamo privilegiato la potenza in salita, naturalmente la sua pendenza è del 70%, sono cose estreme, anche il gommato, naturalmente fornedolo si può applicare delle catene sulle ruote in modo per renderla più stabile la macchina, per non renderla sicura, ecco queste sono le nostre idee. Signor Bazzotti, io la ringrazio per la sua presentazione e in bocca al lupo per il premio. Grazie. Arrivederci, grazie.